Inizia a Torino la fase 2 della vita di Mike Tyson. Sceso dal ring, l'ex pugile ha deciso di mettersi davanti alla cinepresa inaugurando un sodalizio artistico con Andrea Iervolino, produttore cinematografico che gli ha offerto una parte in ban. Sceso dal ring, l'ex pugile Iervolino ha anche annunciato la partecipazione di Tyson a una nuova produzione diretta da un regista due volte. Altro però no. In passato Tyson è già comparso sul grande. L'Italia è un paese bellissimo, spiega Tyson che non esclude un futuro nel nostro paese. Mia moglie ha frequentato la scuola qui e parla italiano. Stavamo addirittura considerando di comprare una. Il mio obiettivo è rimanere vicino all'industria del cinema italiana e lavorare con lo document.write. Faccina triste, il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare Adblock per riprodurre il video. Play replay play replay Pausa Disattiva audio disattiva audio Disattiva audio attiva audio indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot attiva schermo intero Disattiva schermo intero Splay replay play replay Pausa disattiva audio Attendi solo un istante. Dopo che avrai attivato JavaScript. Forse potrebbe interessarti. Dopo che avrai attivato JavaScript. deve attivare javascript per riprodurre il video window.so document.write fascina triste window.sottolineatura se mi sento ancora l'uomo più cattivo del mondo dal lato del pugilato è una cosa passata ma adesso mi piacerebbe poter dire di essere il migliore per quanto riguarda la re vedo questa come un'opportunità per conquistare il mondo attraverso un'altra forma d'art mi piace provare ad essere il migliore migliore di tutti quelli che ci hanno provato